Cari italiani, scusate per la mia assenza in questi ultimi giorni, ma ci sono, sono sempre vigile ed attento. Qualche giorno fa è venuto in Italia, a Roma, il signor Volodymyr Zelensky. Abbiamo assistito ad una Roma letteralmente occupata dalle forze dell'ordine. Zelensky ha incontrato tutte le più alte autorità che stanno a Roma, compreso il Papa. Ci siamo ancora una volta inginocchiati a questo signore della guerra. L'Italia si è letteralmente inginocchiata ai suoi piedi. Vergogna, vergogna per un corteo composto da oltre dieci auto blindate. Vergogna per uno spiegamento di forze in assetto da guerra. Sono stati usati perfino elicotteri dei nostri militari per vigilarlo. Se avessero protetto così Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che rischiavano davvero la vita, sarebbero ancora fra di noi. Invece ci inginocchiamo ai piedi di questo attore protagonista di una tragica guerra. Sta seminando morte nella popolazione civile ucraina e nei soldati. Ma adesso è arrivato il momento di dire basta. Non vogliamo più vedere questo indecente spettacolo. Non vogliamo più vedere che i più grandi direttori dei giornali e tv si prostrano a quest'uomo. Tutto questo continua ad essere una vergogna. Tutto questo vuol dire non avere rispetto dell'Italia, della sovranità del paese e degli italiani. Bisogna dire basta. Bisogna dire basta. Anche a tutti gli altri capi di Stato europei che ci stanno portando sull'orlo di una guerra nucleare. Noi vogliamo la pace. Tutti gli altri vogliono la guerra. Compreso Zelensky. Meditate gente. Meditate.